Le recenti vicende giudiziarie impongono l'approvazione di una regolamentazione delle procedure di valutazione ambientale fondate su trasparenza e partecipazione pubblica. Questa la posizione del forum abruzzese dei movimenti dell'acqua sull'inchiesta della procura di L'Aquila. Al di là dell'accertamento della verità e delle varie responsabilità da parte della magistratura, la questione della corretta regolamentazione dei lavori del comitato valutazione ed impatto ambientale rimane centrale per la vita democratica della comunità abruzzese sia per i cittadini che per gli imprenditori. Questa la posizione esposta questa mattina dei membri del forum abruzzese nel corso di una conferenza stampa. Noi chiediamo una legge regionale sulla valutazione ed impatto ambientale, in particolare noi la chiediamo da tempo. Dopo l'arresto di Sorgi che presiedeva fino a ieri il comitato valutazione ed impatto ambientale della regione diventa urgente. Io voglio ricordare ai cittadini abruzzesi che il futuro del loro territorio si basa proprio su quello che accade nel comitato valutazione ed impatto ambientale dove passano centinaia di progetti dalle cave agli impianti dei rifiuti passando per le strade, passando per gli impianti di captazione dei fiumi e così via. Ecco il comitato fino ad oggi ha funzionato in una maniera assolutamente critica con mancanza di trasparenza, addirittura fino al 2012 non erano neanche pubblici gli incontri del comitato via, l'ordine del giorno non esisteva e devo dire che Sorgi è intervenuto nel 2012 per affossare una norma che era stata approvata dal Consiglio regionale proprio per garantire la trasparenza e la partecipazione delle procedure. È chiaro che al di là di quello che poi deciderà la magistratura noi non possiamo pensare solo che sia cambiare qualche singolo uomo a determinare il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ci servono regole chiare e soprattutto garantire ai cittadini la partecipazione perché tanti occhi poi rendono più difficile delle derive che noi abbiamo visto troppe volte in questi ultimi anni in questa regione.